ciao a tutti ragazzi bentornati di nuovo sul mio canale oggi parleremo di una delle tecniche più letali nella pesca al bass ovvero il wacky worm quindi rimanete fino alla fine di questo video perché vedremo nel dettaglio questa tecnica e vedremo come dove e quando utilizzarla quindi wacky worm allora per prima cosa nota per così dire di forma se avete notato ho detto wacky e non walkie probabilmente da alcune persone sentirete dire walkie non so perché in realtà in italia si sia diffusa questa pronuncia errata comunque sia sappiate che si dice wacky la pronuncia corretta è questa comunque annotazione a parte andiamo subito a vedere di cosa si tratta allora per innesco wacky si intende l'innesco di un verme e per la maggior parte nel 99 per cento dei casi si utilizzano vermi dritti innescato in questo modo qua semplicissimo quindi come vedete innescato più o meno dico più o meno perché a seconda del verme che si utilizza il verme avrà azioni diverse o più o meno azione a seconda del punto in cui lo inneschiamo però più o meno al centro ok quindi forse uno degli inneschi più semplici ma non per questo non redditizio anzi come ho anticipato è forse uno degli inneschi una delle presentazioni veramente più letali nella pesca al basso ad esempio sulla nascita del wacky rig si dice che questo sistema sia nato in un lago americano molto difficile in cui si presentarono questi pescatori abbastanza alle prime armi che non sapendo come innescare il verme iniziarono utilizzarlo proprio in questo modo e catturarono un sacco di pesci allo ritorno la gente si meravigliò e gli mostrarono come l'avevano utilizzato per caso perché non sapevano come utilizzare il verme iniziarono a utilizzarlo proprio in questo modo e da allora nacque il wacky rig comunque che questa sia una leggenda oppure no così si può come un'altra teoria secondo la quale questo innesco sia nato si è stato cominciato a utilizzare nel new jersey da parte di pescatori che studiarono questo metodo di innesco per aumentare la mobilità degli allora vermoni praticamente gli unici vermi disponibili i cream che erano noti per la loro diciamo rigidità però sia che queste storie siano vere o no fatto sta è che il wacky è una grande tecnica presentazione veramente letale in grado di veramente fare la differenza quando un sacco di altre tecniche falliscono ma perché questo sistema è così efficace principalmente perché innescando l'esca in questo modo le faremo avere una presentazione veramente molto molto naturale a cui il pesce con molta difficoltà riuscirà ad ignorare proprio per questi motivi questa è una tecnica che riesce a catturare pesce quasi tutto l'anno le condizioni migliori ovviamente per utilizzare questa tecnica sono quelle magari di pesce inattivo pesce pressato e utilizzandola ad esempio nel metodo classico quindi spiombata senza piombo quando il pesce magari è anche sospeso quindi magari non troppo a contatto con il fondo ovviamente quando il pesce è molto molto attivo tecniche più di reazione quindi tecniche di movimento ci permetteranno di ipoteticamente catturare più pesci perché ci permetteranno di sondare più acqua a parità di tempo di impiego però quando le condizioni sono difficili magari il pesce pressato o inattivo o insomma per per vari motivi questa tecnica potrà darci pesci quando altre tecniche vengono rifiutate altre presentazioni vengono rifiutate come vedremo esistono vari metodi per utilizzare efficientemente per far lavorare efficientemente il nostro verme in vari strati d'acqua per partire il più classico è rappresentato dall'utilizzare il nostro verme spiombato quindi senza piombo in scandalo così come vedete senza zavorra in questo caso specifico quello che vedete è un duo wriggle crawler che per me rappresenta uno dei miei delle mie schede di fiducia quando vado a impiegare questa tecnica ed utilizzando in questo modo noi faremo avere al nostro verme una caduta molto lenta molto naturale che veramente se un bus è nelle vicinanze difficilmente potrà ignorare ovviamente se il pesce sul fondo ci vorrà un sacco di tempo per farlo scendere giù ovviamente questa come già premesso non è una tecnica che normalmente vi farà sondare tantissima acqua però come ho accennato se un pesce nelle vicinanze ci darà grandi chance di poterlo catturare questo metodo ovvero di utilizzare il verme spiombato è una delle veramente migliori soluzioni quando peschiamo su pesce a vista negli strati superficiali d'acqua quindi magari vediamo un pesce in lontananza una proprio delle migliori opzioni da poter utilizzare proprio di lanciargli un verme naturale wacky che come ho già detto difficilmente riuscirà ad ignorare questo perché noi vedendo il pesce sappiamo esattamente dov'è e potremo presentargli l'esca davanti ovviamente quando noi non peschiamo a vista quindi non sappiamo esattamente dove si trova il pesce un po' una pecca intrinseca di questa tecnica è il fatto di non darci modo di sondare troppa acqua questo è un po' un limite di questa tecnica quindi quando si usa questa tecnica di wacky spiombato senza vedere il pesce di solito la si impiega facendo lanci in zone ad alto potenziale altrimenti rischiamo di buttare via un sacco di tempo pescando in zone ecco dove non c'è il pesce proprio perché questa è una tecnica che non ci fa sondare acqua ce ne fa sondare molta poca comunque anche perché l'azione del nostro verme e questa è una cosa fondamentale quando si pesca wacky sarà incaduta non quando lo muoviamo quindi questo ecco è una delle basi di questa pesca noi non dovremo lanciare il nostro verme e recuperarlo direttamente l'azione del verme sarà durante la caduta allora Grazie a tutti. 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 Esistono anche ami weedless, cioè dotate di una guardia che ci permetterà di fargli avere doti anti-alga, lanciarle un pochino più nello sporco se noi dovessimo pescare a ridosso di alghe, rami o quant'altro. Quindi come abbiamo detto, wacky spiombato per condizioni di maggior naturalezza possibile nell'affondamento, pesci pressati, pesci difficili, pesci magari negli strati superficiali d'acqua. Se noi vogliamo pescare con un affondamento un pochino più sostenuto, magari in condizioni a bollo spesso succede che si alza un po' di vento, quindi con il wacky spiombato è molto difficile mantenere una buona azione di pesca. Possiamo pescare a wacky testina, gighead. Esistono delle gighead specifiche, come quella che vi faccio vedere. Ovviamente esistono con o senza guard. Solitamente si ricorre al wacky testina quando si vuole far avere alla nostra esca un affondamento un pochino più veloce, quindi quando magari si pensa che il pesce stia un pochino più giù. Oppure quando magari si alza un po' di vento e con il wacky spiombato peschiamo male, abbiamo un cattivo feeling con la nostra esca, in più consideriamo anche che il wacky testina ci potrà permettere di lanciare un po' più lontano la nostra esca, ovviamente. Quindi, strati superficiali, wacky spiombato. Se vogliamo pescare strati un pochino più bassi, possiamo, volendo, adottare il wacky testina. Se al contrario vogliamo pescare con questo innesco più sul fondo, una delle migliori soluzioni può essere di avvalerci del cosiddetto neco. Ovvero, sempre il nostro solito wacky, andremo ad inserire nella testa della nostra esca un insert, ok? Quindi, un piccolo insert di tungsteno o piombo, come quello che vedete, ok? Ci sono ovviamente di varie taglie. Inserendo in questo modo, nella testa della nostra esca, ok? Il nostro insert, l'esca non cadrà più in questo modo, ma cadrà di testa. Quindi avrà un affondamento molto più veloce, ci farà raggiungere subito il fondo. E una volta raggiunto il fondo, noi potremo muovere il nostro verme, anche qui avvalendoci delle grandi doti di naturalezza durante il movimento che questo innesco ci conferisce. Utilizzare quest'ultimo sistema di cui vi ho fatto presente, il neco, rappresenta anche il modo, l'impiego a wacky che ci permette di sondare più acqua. Perché ovviamente, avendo più peso e facendo, diciamo, raggiungere all'esca, dando modo all'esca di raggiungere il fondo più velocemente, noi potremo, in questo modo, sondare più acqua. Quando si pesca anneco, solitamente, solitamente, quindi, come vi ho già detto, il verme, faremo avere, diciamo, l'azione del nostro verme nei pressi del fondo. Così come, ad esempio, se noi decidiamo di impiegare il nostro verme su una montatura dropshot. Montatura dropshot, allo stesso modo, anziché innescare nel modo classico il nostro verme in testa, potremo, allo stesso modo, innescarlo wacky e vedere se magari questo sistema può darci un vantaggio sull'innesco classico. Ovviamente anche il dropshot è una tecnica che dà il massimo quando il pesce sta nei pressi del fondo. Quindi queste sono le principali soluzioni per sondare i vari strati d'acqua con questo sistema. Parliamo ora di esche e di attrezzature. Allora, quanto riguarda le esche, come vi ho detto, al 99% dei casi utilizzeremo vermi dritti. Vermi dritti che potrebbero, potranno essere rappresentati, dai, da vermi, diciamo, sottili, come, ad esempio, il wriggle crawler che vi ho fatto vedere poco fa. Ne ho qui altre, ce ne sono di mille tipologie. Ho qui sotto mano, ad esempio, il watercrawler di Damiki, altro verme sottile. E poi ci sono, ad esempio, qui ho vari superclassiconi come i tramontabili vermi zoom. Veramente mille opzioni in questo caso. Oltre a questi, un'altra categoria di esche validissime per Nesco Wacky sono rappresentati dai soft stick bait, ok? Quindi soft stick bait. Vermi un pochino più cicciotti, dal peso più elevato, quindi anche utilizzando gli spiombati riusciremo a lanciarli un po' più lontano. Ovviamente, esche diverse potranno avere affondamenti diversi, quindi anche qui possiamo sperimentare anche già solo con l'esca spiombata sul grado di affondamento per ottenere una caduta un pochino più veloce, un pochino più lenta. Così come il posizionamento del lamo sull'esca, più verso la testa, più verso la coda dell'esca, a seconda del verme che utilizziamo, potrà far avere all'esca un movimento più o meno sinuoso, che anche qui ovviamente c'è da sperimentare per ogni esca che utilizziamo. Parliamo adesso di attrezzatura. Quando si pesca a Wacky solitamente si utilizza attrezzatura da spinning, diciamo nel 90% dei casi è quella che ci dà maggiore doti di efficienza in pesca. Per quanto mi riguarda la scelta va su una canna di lunghezza compresa tra i 6 e i 7 piedi circa, da medium light a medium o anche medium heavy nel caso di esca particolarmente un pochino più grosse oppure quando si pesca in ambienti molto intricati, comunque solitamente con una canna media riusciremo a fare un po' di tutto. Quindi medium light se peschiamo fuori dalle cover con fili più sottili e esche più piccole passando per un'azione media o più pesante all'aumentare del filo, della taglia dell'esca e della struttura attorno alle quali andremo a pescare. Filo solitamente si spazia in un range compreso tra le 5 e le 10 libre. Io personalmente preferisco l'impiego di un trecciato in bobina e finale in fluorocarbon. Ovviamente il fluorocarbon ci darà le maggiori doti di invisibilità che quando si usa questa tecnica ci possono tornare molto utili. Ovviamente più peschiamo vicino alla cover e più peschiamo su pesci grossi più aumentiamo la taglia del nostro filo. Concludiamo la nostra attrezzatura con un buon mulinello da spinning dotato di una buona frizione visto che spesso pescheremo con fili abbastanza sottili quindi se agganciamo un pesce grosso una frizione bella fluida ci sarà sicuramente di aiuto. Rapporto di recupero qui in questo caso non è che abbia faccia una differenza spaventosa però per quanto mi riguarda vado su modelli con rapporto di recupero veloce. In questo caso sto utilizzando un mulinello 6 a 1 e rapporto di recupero veloce perché lo preferisco perché su questa tecnica come vi ho già fatto presente molto spesso andremo a fare una pesca target, quindi fare lanci mirati in punti precisi. Poi faremo avere alla nostra esca, faremo avere l'azione alla nostra esca e poi dovremo recuperare per effettuare il lancio successivo su un altro target. Avendo un rapporto di recupero più veloce io limiterò il più possibile semplicemente il tempo tra un lancio e l'altro perché un rapporto di recupero veloce mi darà modo di recuperare l'esca in un tempo minore e quindi a fine della giornata magari fare più lanci e ipoteticamente avere la possibilità di catturare più pesci. Allora vedi Allora vedi nice wacky fish bel pesce ragazzi che ha mangiato l'esca su questo albero sommerso il verme è sceso a fianco all'albero sommerso è uscito fuori questo per bassa l'otto libre mi ha aiutato un po nel cavare questo pesce dai rami perché se avessi usato un filo più sottile il pesce che ha provato a rientrare nei rami probabilmente avrebbe avuto la meglio quindi ricordatevi di regolare il diametro del vostro filo in base alle condizioni in cui pescate se pescate intorno a qualche tipo di cover rigida ecco io non scenderei sotto le otto libre perché se agganciati un pesce grosso vicino alla cover e il pesce prova a entrare dentro è veramente difficile con un filo più sottile riuscire a cavarlo fuori detto questo ragazzi io vi ringrazio per attenzione vi do appuntamento al prossimo video oggi mi trovavo nuovamente nel bellissimo ambiente della bus factory tenuta isola luogo in cui svolgo parte delle mie guide di bass fishing luogo per quanto riguarda il bass fishing esclusivo per il mio servizio guida per il resto se il video vi è piaciuto mettete un bel like nel caso voi non l'aveste ancora fatto iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video e nel caso voi voleste approfondire sul campo ulteriormente gli aspetti che abbiamo affrontato in questo video così come qualsiasi altra tecnica di bass fishing contattatemi eventualmente per una guida detto questo ragazzi io vi do appuntamento al prossimo video e alla prossima ciao